Gloria, gloria al Signore In una delle parole che la liturgia della Chiesa ci propone in questo periodo di Quaresima, tratta dal profeta Isaia, Dio ci dice cessate di fare il male, imparate a fare il bene, su, venite e discutiamo. Se anche i vostri peccati fossero rossi, scarlatti, diventeranno bianchi come l'ana, bianchi come la neve. E io penso che è proprio bello discutere con il Signore, perché anche se indubbiamente la ragione è sempre dalla sua parte, però Egli ci ascolta, ascolta sempre tutto quello che noi diciamo, ascolta anche quello che a volte noi non diciamo, quello che pensiamo soltanto, oppure quello che non osiamo nemmeno esprimere, nemmeno pensare. E ascolta, pone nel suo cuore, anche quello che non sappiamo neppure di provare, di vivere dentro di noi. Lui l'ha già ascoltato, perché Dio ascolta in profondità. Infatti Egli conosce la profondità del nostro cuore, ne conosce ogni abisso, diciamo, ma anche ascolta dalla profondità del suo cuore, che è un abisso di amore, di misericordia. Quindi discutere col Signore è sempre, come dire, a nostro favore, perché non è il nostro potere cambiare il rosso in bianco, non è il nostro potere cancellare il male, cancellare i peccati che abbiamo fatto, o addirittura saperne trarre qualche cosa di buono. Non è il nostro potere, ma è in potere di Dio. E allora a noi non rimane altro che gettarci tra le braccia di questo Padre, pieno di misericordia, pronto ad accoglierci, un po' come dei bambini, salirgli sulle ginocchia, appoggiare il nostro cuore nel suo cuore, chiedergli perdono, no? E questo conquista il cuore di Dio. Quindi, ecco, questo Dio che dice, su, venite e discutiamo, mi sembra quasi un proforma, no? Per il grande rispetto e amore che Egli ha per ognuno di noi, perché in realtà Egli nel suo cuore ha già deciso e il perdono è già lì pronto per essere donato.